Buongiorno amici sportivi di Italia 1, siamo qua con tantissimi vlogger dell'enduro, siamo a finale, proviamo la PS3 dell'EWS 2020. Abbiamo qua dietro Alex Lupato, un infiltrato come me Lollofolco, Erwin, Bob, Matteo Raimondi, Matteo Berta e Marcello Pesenti. Francesco, gooo! Ciao, partenza PS3, ti sei se ci aspetta una discesa, ma invece qua abbiamo un bel pianoro e salita. Salita anche viscita, tra l'altro. Ciao! 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 Sì 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 Ciao Sì 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 E' stretta! E' stretta i tornanti! Il bici dà come lollo! Ora andiamo per PS4, la briga, e vediamo un po' com'è come l'ha fettucciata. Adesso io salto sul caccio! Vuoi andare tu Matte? Io l'ho fatto andare l'omigone! Partenza PS4, seguiamo il cielo per quanto si può! Perché mi sa che mi stacca! Ah, aspetta la caccio la fette! Quanto è quello che è? Quanto è quello che è! Potere di votare? Non lo vuole? Un po' com'è le? Grazie a tutti. 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 Not bad. Grazie a tutti. 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 Mani nei capelli per l'hollo. che puntava tutto su questa speciale. perché la conosce. e soprattutto perché era la prima. Grazie a tutti. Quattro, Quattro, Sì 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 Ciao Ciao Partenza in PS2 Dopo un bel diluvio come vedete Lollo in PS1 è caduto Ha rotto la leva del freno Quindi piccola pausa E vediamo un po' com'è Ovviamente modifica Al solito sentiero che facciamo in discesa Qua finale Per farci pedalare un po' di più 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 E ci sono arrivati belli bagnati Mamma mia Una bella grandinata Cambiate sicuramente le carte in tavola E domani per me Lollo Da un hitler puri Un po' di più Un po' di più Sarà Una bella gara dura GO! A domani! Grazie.